Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Contribuire alla rigenerazione ambientale della città, tutelandone la biodiversità e migliorandone l'aspetto naturalistico. Con questi obiettivi è stato realizzato a Pesaro un importante intervento di forestazione, che ha portato alla messa a dimora di mille piante. Il progetto rientra in mosaico verde. La campagna nazionale di forestazione di aree urbane ed extraurbane e tutela di boschi, ideata e promossa da Zero CO2 e Lega Ambiente, è sostenuta da Estra. L'intervento è stato realizzato in una zona verde alla periferia di Pesaro, a ridosso del centro socioculturale Caprilino. Questa città ha bisogno di tante piante, quindi questo io penso debba essere un inizio, un inizio di una lunga piantumazione, chiamiamola così, nella quale appunto dobbiamo mettere a dimora migliaia di piante, perché abbiamo necessità di migliorare l'area di questa città. C'è un grande progetto per la città, ovviamente quello di società autostrade che prevede diversi ettari di piantumazione di boschi urbani. Questo è un progetto partito molti mesi fa, assieme alla loro assessora Edi Morotti, che assieme a me aveva in qualche modo spinto su questo intervento. E' un intervento importante che ci porta a mettere a dimora mille alberature su quest'area qui e quattro centri alle aree di Villa Ceccolini. E' il terzo anno che partecipiamo a questa iniziativa, partendo dalle province e dei territori toscani, poi abbiamo effettuato la stessa iniziativa nella provincia di Ancona e nella provincia di Macerata. Il successivo passo sarà in Abruzzo, a Vasto.